ciao a tutti benvenuti su mtcp smg su flotus allora partiamo con sabati questa carta l'abbiamo già consigliato in più video ma vogliamo consigliarla ancora onde evitare che qualcuno di voi che potrebbe essere interessato alla carta lo acquisti perché siamo veramente certi che questa carta salirà ovviamente possiamo sbagliarci come tutti però noi pensiamo che veramente questa carta salire alla carta non è forte come le altre incarnazioni elementali mitiche di madora rison 2 però ha la sua versatilità e del colore giusto perché il blu il colore più forte quindi alla possibilità di entrare in diversi deck appunto diversi scusate la ripetizione ed è una carta a tempo veramente forte in commander non dico che sia una staples ma non ci andiamo tanto lontani perché fa ciò che vogliamo fare in commander e il costo in commander non è così eccessivo mentre in model per esempio a volto un po pesante quindi una carta acquistare questa versione se vi piace la trovate sui 9 euro 10 euro e so che può sembrare tanto ma rispetto agli altri mentali costa poco e salirà come quasi tutti gli elementali abbiamo le carte del secret layer dei pretori sono veramente molto molto belle il prezzo non eccessivo perché c'è oltre lo troviamo a 14 e tra l'altro lo troviamo foil a 14 50 in grosse quantità quindi secondo me questa è un'occasione da non perdere per esempio c'è oltre ed è giocato e richiesto tantissimo e quindi può essere un ottimo investimento ci vuole un pochino di tempo perché salga però non dovete avere fretta ed è un investimento quasi sicuro perché comunque fuori la 25 euro secondo me ci arriva poi abbiamo un'altra carta che sta salendo invece per modder piano piano è il gem raiser ed è una carta che sta salendo per via di infect si è giocata nelle liste di infect non è male per niente e si può acquistare perché tanto anche in cento in scusate in pioneer è una carta che si può giocare tranquillamente quindi se pioneer tornerà a essere giocato in maniera costante questa carta salirà un saluto e un abbraccio da amici su flotus lasciato un like iscrivetevi al canale commentate e attivate la campanella ciao